benvenuti al terzo episodio della serie vita da bandisti per prima cosa vi ringrazio per le 500 visualizzazioni del secondo episodio sono in debito con voi della risposta alla domanda quanti libretti utilizziamo bene nel nostro borsello come potete vedere ci sono 1 2 e 3 libretti questo è il primo libretto con le marce a palle sfilate noi solitamente iniziamo con banner musicante nei raduni della nostra zona si utilizza spesso suonare tutti insieme monviso se voi ci ascoltate da altre zone ci fate sapere nei commenti quali marce utilizzate questo è il libretto nero ci sono dentro dei brani pop rock contemporanei che abbiamo già fatto sentire qualche esempio nei precedenti episodi il secondo libretto invece è utilizzato per le sfilate religiose e per le sfilate militari a questo punto vi lancio una sfida se il video raggiunge di noi 500 visualizzazioni nel prossimo vi faremo vedere una sorpresa cantata durante l'ultima congumerazione nel cui abbiamo suonato